È stata una scena raccapricciante, un energumeno biondo, rasato, che urlava frasi sconnesse in una lingua incomprensibile, probabilmente una lingua dell'Est, sporco di sangue fino ai gomiti, i piedi di questa, che poi è stato detto che è una donna, povera donna, e lui che la massacrava a pugni. Alla fine in otto hanno dovuto trattenerlo perché era completamente andato fuori di testa questa persona.